Intanto vi ringrazio di essere qui in questa data un po' particolare perché il 5 è ancora mezzo vacanziero, quindi è un impegno ulteriore mettersi con la testa su questi argomenti. Nicola mi ha chiesto di fare una prima giornata sulla valutazione e io ho sviluppato anche una serie di contenuti nuovi per cercare di essere abbastanza accattivante. Vi spiego un pochino due cose prima di cominciare. Intanto qual è un po' il mio percorso, quindi così capite che cosa potete aspettarvi da me e poi vi spiego bene qual è la struttura di questa mattina in modo da avere chiari gli obiettivi formativi e anche un po' come ho pensato di costruire questo tipo di mezza giornata. Tenuto anche conto del tipo di modalità appunto via webinar che chiaramente non facilita l'interazione e anche un po' più impegnativa del solito, però avendo un po' ristrutturato le slide in questa logica dovrebbe essere abbastanza sostenibile. Allora io diciamo ci sono tre cose che conosco della pubblica amministrazione che sono un pochino il portato degli anni di esperienze che ho fatto in questo settore. Io ho sempre lavorato dall'87 a oggi con le pubbliche amministrazioni, in particolare gli enti locali ma non solo, però prevalentemente gli enti locali, anche perché banalmente sono molti di più. Le tematiche di cui mi sono occupato sono state fin verso il 95 aspetti strettamente organizzativi. Erano gli anni 142 della revisione degli statuti e delle grosse riorganizzazioni. Poi dal 95, quando è uscito il decreto 77 sulla contabilità pubblica, sull'ordinamento finanziario contabile, ho iniziato a lavorare su una cosa che già mi interessa molto di più rispetto poi al tema della valutazione, che è, a parte la parte contabile, il piano esecutivo di gestione che aveva posto un pochino le basi per i nuovi sistemi di valutazione, non a caso poi nel 96 col contratto dirigenti si è iniziato a parlare di valutazione, il decreto 29 ha iniziato a parlare di nuclei di valutazione e da lì, parallelamente agli aspetti di programmazione e di contabilità, io mi sono occupato di sistemi di valutazione. Il primo nucleo l'ho fatto al Comune di Genova nel 96 e poi da lì ho sempre lavorato anche su questa materia, che peraltro è molto interessante perché chiaramente chiudeva il cerchio con quello che era la tematica della programmazione e del controllo di cui mi sono sempre occupato e andava avanti, programmazione, controllo, valutazione e poi si ripartiva. Quindi diciamo le mie competenze sono prevalentemente quelle di un settore di staff alla direzione generale o comunque un settore come può essere programmazione, contabilità, controllo, organizzazione, quella parte lì sostanzialmente. Negli ultimi sette anni ovviamente ho dovuto occuparmi molto anche di trasparenza e anticorruzione perché ci sono competenze tipiche dei nuclei di valutazione e comunque si integrano molto con gli altri ragionamenti, anche con la programmazione e anche con la valutazione perché sappiamo bene che va considerato in chiave valutativa anche tutto l'aspetto anticorruzione e trasparenza e poi perché faccio anche parte di alcuni organismi di vigilanza e allora sugli organismi di vigilanza oltre al modello 231 si lavora su questi temi. Quindi diciamo questo è quello che potete aspettarvi da me come tipo di formazione, io sono un aziendalista pubblico, mi sono laureato in encomia tanti anni fa già scegliendo la specializzazione di pubblica amministrazione, ovviamente le norme le devo conoscere nel senso che non si può sopravvivere senza diritto amministrativo e quindi ho un taglio comunque che tiene bene in considerazione norme, regolamenti, soft law e quant'altro, però sono comunque un aziendalista pubblico e ho sempre lavorato con la pubblica amministrazione pur essendo una società privata. Questo giusto per inquadrare molto brevemente cosa sono, vi spiego invece il taglio della mattinata, ho pensato di fare così sostanzialmente, il direi 80% del materiale che vedremo sono esempi perché sto vedendo che funziona in generale sempre bene fare esempi ma funziona ancora meglio quando le modalità di interazione sono a distanza, ovviamente non sono esempi scollegati da una struttura didattica solida e da un minimo di modellizzazione, però il tentativo è dividere in tre questo nostro incontro, una prima parte che è più breve sicuramente di inquadramento metodologico sugli aspetti generali della valutazione e questo ci porterà via una parte della mattina, anche lì faremo sicuramente degli esempi, però cercheremo di mettere in fila tutta una serie di concetti, cercheremo di capire a cosa serve la valutazione, cercheremo di capire quali sono stati alcuni punti di debolezza che la funzione pubblica ha evidenziato sul tema della valutazione e cercheremo infine di capire quali sono le cose da mettere in campo per far funzionare un po' meglio i sistemi e questo dovrebbe darci una visione di carattere generale di questa tematica. Poi la seconda e la terza parte invece sono due focus molto operativi, uno sulla valutazione da performance organizzativa e uno sulla valutazione da performance individuale. In questo senso cosa cercherò di fare? Cercherò di darvi delle idee molto strutturate, però viste induttivamente, dando qualche flash concettuale ma poi vedendo cosa hanno fatto alcuni enti. In questo senso ho provato a prendere enti anche molto diversi tra loro, alcuni dimensionati in modo simili al vostro, altri anche molto più piccoli, anche perché enti molto più grandi di genere non è che ce ne siano molti, però diciamo che ci possono essere esempi anche di enti di minore dimensioni che per il tipo di materia possono essere interessanti anche per comuni grandi, in altri campi magari no ma sulle cose che vedremo secondo me sì. Quindi dovreste aspettarvi una mattinata che dopo questo inquadramento generale però importante perché ci dà alcune basi e ce le fa condividere sarà tutta costruita in una modalità induttiva partendo dall'esempio e arrivando a una concettualizzazione. Ovviamente come funziona una cosa del genere? Io non voglio stressarvi, adesso l'ha già fatto anche Nicola, però più voi intervenite, più voi fate domande, più voi cercate di portarvi a casa delle cose che vi possono servire anche nel quotidiano, meglio è, poi dopo uno non è obbligato a intervenire ovviamente, però è chiaro che l'interazione sarebbe molto più facile di persona, io vi farò anche io qualche flash, qualche domanda per capire se è tutto chiaro e quant'altro, però ripeto non fatevi problemi, non è un convegno questo, è una riunione di lavoro, ho messo giù un po' di cose fatte, organizzate, strutturate, però diciamo che fare tre ore e mezza di monologo sarebbe un po' impegnativo, per carità si fa, poi si è pronto per l'ostruzionismo parlamentare, però si fa volentieri. Nicola ve l'ha già detto, ovviamente tutte le slide vi verranno mandate, poi se magari chiacchierando viene fuori interesse per qualche argomento, come abbiamo già fatto l'altra volta che c'erano degli articoli, se non mi ricordo male sul tema dell'anticorruzione, vi mando anche quelli, quindi se avete curiosità o interesse per certi materiali, chi volesse contattarmi, la mail è sulla copertina della slide, quindi se ha Nicola che c'è qualche domanda anche che viene in mente dopo, non c'è problema, manda una mail e se sono in grado vi rispondo. Ok, direi che abbiamo detto tutto come presentazione, abbiamo usato il quarto d'ora accademico anche in un modo utile, capendo cosa siamo qua a fare, adesso provo la condivisione vedendo che funzioni tutto. un attimo. Ecco, mentre provi la condivisione Luca, prova prova, io ti ho nominato, ti ho cambiato ruolo e ti ho messo come organizzatore, che ti dà dei privilegi in più, in particolare puoi vedere i partecipanti e poi chiudere i microfoni, se senti dei rumori di fondo magari inabattitamente qualcuno ha lasciato il microfono acceso, lo vedi bene, tu lo schiacci e insomma lo spegni. Ok, vedete adesso? Si, si, si vede perfettamente, vediamo la slide, la valutazione della performance, la performance eccetera eccetera. Va bene, va bene, perfetto. Ok, allora possiamo tranquillamente cominciare, vedo un piccolo box con i partecipanti, diciamo che per gli interventi è meglio, se possibile, intervenire a voce, perché magari la chat non me ne accorgo, di sti solito vedo, però insomma. C'è qualche collega che non ha l'audio, per cui qualcuno eventualmente interviene in chat, ma si vede un pallino rosso, insomma, nel caso intervengo io, che è un lavoro e con un orecchio ascolto, ecco insomma. Va bene, va bene. Non te ne accorgi te, ecco insomma. Si, 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 va bene. Se qualche collega che vede, va bene, perfetto. Va bene, dai, buon lavoro dopo. Grazie. Allora, quindi come vi dicevo, questa prima parte tocca alcuni aspetti generali sul tema della valutazione della performance, che è un tema abbastanza, diciamo, consolidato, ma a mio avviso ha ancora degli aspetti su cui bisogna investire parecchio. Lo dimostra il fatto che la performance organizzativa nella maggior parte degli enti è ancora abbastanza al di là da venire e lo dimostra anche il fatto che i ragionamenti che io sto vedendo in queste settimane, ad esempio sul piano operativo del lavoro agile, sono ragionamenti abbastanza faticosi, anche cercando di capire che differenza sia tra il piano del lavoro agile e il piano performance. Anche tutti i legami tra performance e trasparenza anticorruzione non sono sempre semplicissimi. Quindi diciamo che è un tema chiaramente che c'è da moltissimi anni. Da lì a dire che è un tema radicato, è un tema semplice, siamo molto lontani. Vi farò anche delle considerazioni dal lato delle procedure di conciliazione dei ricorsi, nel senso che quando parliamo di sistemi di valutazione dobbiamo, a mio avviso, sapere anche cosa fare per evitare eccessi di ricorsi e magari a volte anche pretestosi, ma però anche molte volte assolutamente ragionevoli. Ho parecchi esempi di patologie che si sono generate per una superficialità di fondo o nel progettare i sistemi o nel gestirli. superficialità di fondo a volte vuol dire che faccio un sistema, lo delibero, poi non lo leggo e lo applico, non me lo ricordo e faccio errori di percorso. Quindi cercherò anche di porre molto l'accento su da un lato quello che ha detto la funzione pubblica nel suo linee guida sicuramente, ma dall'altro anche su quello che capita nella pratica dal lato nucleo di valutazione, perché questo credo possa essere un valore aggiunto per chi è interessato a questo tipo di tematiche. Quindi partiamo subito sull'analisi di alcuni elementi di fondo dei sistemi di misurazione e valutazione. Probabilmente la prima cosa che c'è da dire e che secondo me ispira tutto quello che diremo questa mattina è che dopo la riforma di Brunetta non si è più detto sistemi di valutazione, ma si è detto sistemi di misurazione e valutazione. Questo è in parte scontato, nel senso che tutti sappiamo oramai che per valutare gli obiettivi dobbiamo avere degli indicatori, dobbiamo rendicontarli e sulla base di quello facciamo la valutazione. Il grande buco su questo concetto però c'è sul lato comportamenti organizzativi, nel senso che troppe volte si vede una valutazione dei comportamenti organizzativi che non ha alla base delle risultanze oggettivanti dei comportamenti. Questa detta bene, detta meno scolasticamente o meno dottrinalmente, una valutazione dei comportamenti fatta un po' a sentimento, dopodiché nel momento in cui qualcuno ti chiede la motivazione del perché 7, 8, 9, 6 o quello che è, si fa fatica a motivare. Allora, il primo concetto che vorrei dare proprio sulla copertina della prima slide del mio intervento è proprio questo, se noi usciamo stamattina avendo chiaro in parte come si possono misurare e valutare gli obiettivi, cosa di cui parleremo peraltro meglio nel prossimo incontro che è molto focalizzato sugli indicatori, ma anche avendo chiaro come si potrebbe cercare di oggettivare meglio la valutazione dei comportamenti organizzativi, secondo me un primo obiettivo formativo l'abbiamo raggiunto, perché non è possibile pensare che, adesso semplificando un po', se sono due gli elementi oggetto di valutazione, obiettivi che siano di performance organizzativa individuale non importa. E comportamenti? Non è possibile pensare che un sistema chiamato di misurazione e valutazione misuri prima di valutare soltanto gli obiettivi e non faccio uno sforzo per misurare almeno dove possibile anche i comportamenti. Questo perché? Perché se io riesco a misurarli riesco a oggettivarli, riesco a spiegarli meglio in chiavi di attese e quindi sarà più facile per il soggetto valutato magari orientare un comportamento corretto e poi riesco anche a raggiungerli e a valutarli meglio magari. Quindi prima sottolineatura che darei è che i sistemi di misurazione e valutazione sono di misurazione rispetto agli obiettivi e anche rispetto ai comportamenti, ovviamente con i distinguo logici perché è molto più facile, se vogliamo, per quanto difficile misurare il raggiungimento di un obiettivo che misurare un comportamento organizzativo. Però sappiamo anche un'altra cosa che a me è molto importante, di cui non parleremo perché se no andiamo fuori tema ma 30 secondi di accenno vale la pena, la delibera 177-2020 dell'ANAC sul codice di comportamento ha enfatizzato il raccordo che c'è tra comportamento e sanzioni disciplinare. Quello che non può secondo me passare è che un comportamento negativo o non totalmente positivo diventi immediatamente sanzioni disciplinare. Sicuramente tra il comportamento e l'aspetto disciplinare c'è in mezzo la valutazione dei comportamenti. Quindi io posso dire il tuo comportamento non è stato perfetto, va bene, invece che 10 prenderai 8, ma qua non c'è la sanzione disciplinare. La sanzione disciplinare chiaramente comincia dopo. Allora raccordare concettualmente il tema dei comportamenti con la valutazione dei comportamenti organizzativi e poi anche il concetto di sanzioni disciplinare è un tema rilevante, di cui oggi non parleremo. Perché lo dico? Perché ho visto proprio l'altro giorno un interessante codice del Comune di Brescia che sotto ogni articolo del codice di comportamento elencava nel dettaglio le correlate sanzioni disciplinari. Molto utile sicuramente, però ha bisogno anche di un raccordo fisiologico, cioè non può essere comportamento sanzione, c'è comportamento valutazione e se la valutazione è molto negativa sanzione. Quindi la misurazione secondo me è un tema rilevante. Quindi l'obiettivo è farvi capire come si misurano gli obiettivi ma anche come si misurano i comportamenti. La finalità dei sistemi di valutazione, anche qui è un po' il solito discorso, la finalità è non trasporre i fini, cioè cercare di migliorare l'azione di governance e la qualità dei servizi cercando di far crescere le competenze professionali. Poi uno potrebbe anche dirmi sì, bello, però quando nel 2009 hanno tagliato il 50% i budget di formazione fai fatica a fare una cosa del genere, perché io se gestisco il personale, quando faccio una valutazione vedo le risultanze, vedo i punti di debolezza e posso anche pensare di colmare il gap della valutazione con iniziative formative. Questo sicuramente è vero, quindi certamente la valutazione deve premiare, può anche sanzionare, ma il grosso della valutazione sulle persone normali che lavorano mediamente bene deve cercare comunque di lavorare sulla crescita professionale e deve anche cercare di migliorare la qualità dei servizi. Quindi qui la legge dice una cosa di alto profilo, sicuramente valida, che non è banale, naturalmente non possiamo soffermarci troppo perché non abbiamo tanto tempo, però miglioramento della governance tecnica vuol dire miglioramento delle relazioni con gli stakeholder che entrano in rapporto con l'ente a livello tecnico. Qualità dei servizi vuol dire maggiore efficacia, maggiore efficienza dei servizi e competenze professionali vuol dire diminuire i gap di competenze e quindi diminuire anche lo stress che il lavoratore ha se rispetto a quello che deve fare non ha ancora le competenze formate completamente. Quindi sostanzialmente il legislatore ci legge questa definizione e ci fa, secondo me, fare un ragionamento a tutto tondo, un qualcosa orientato agli stakeholder anche esterni, un qualcosa orientato agli utenti dei servizi che sono un particolarissimo stakeholder e un qualcosa orientato all'interno alle persone che i servizi li devono erogare. quindi diciamo l'idea era molto interessante, poi purtroppo, qui do un giudizio di valore ma è un po' una mia idea, se tu parti così alto e così positivo, se un secondo dopo dici come si diceva adesso non si dice più 25-50-25, quindi il 25% delle persone non prendono niente di premio, è chiaro che si rigidisce tutto e il tema diventa iperconflittuale, però io della Brunetta questo passaggio lo salverei pienamente. Il concetto di cosa voleva dire nel 2009 iniziare ad applicare la Brunetta V, ve lo spiego con un esempio molto semplice. Nell'allora provincia di Milano abbiamo fatto un sistema di valutazione che i sindacati hanno firmato senza modifiche, perché si era costruito in maniera concertata, era fatto bene, evidentemente eccetera. L'unica cosa che ci hanno chiesto, siccome abbiamo messo i riferimenti alla legge ovviamente per chiarezza di lettura, è di togliere tutti i riferimenti al decreto 150-2009, a quel punto avrebbero firmato senza modifiche ed era una posizione politica ovviamente, però questo dà l'idea in quegli anni di che livello di conflittualità si era generato, non è facile applicare una riforma di ampio respiro con un livello di conflittualità di quel tipo. Oggi l'ambiente è molto differente, quindi sicuramente si può lavorarci in un modo più tranquillo. Questa però era la finalità dei sistemi. L'altra cosa, un po' l'ultima diciamo di carattere così metodologico, teorico diciamo, è la definizione di performance e questa secondo me è un'altra buona definizione che ci aveva dato ancora la Civit ma che poi è stata tenuta dalla funzione pubblica. La performance è un contributo, è un contributo apportato a che cosa? Al raggiungimento di quella che è la mission dell'ente, degli obiettivi strategici operativi del DUP e la performance dei servizi erogati. Quindi il tema è posso vedere come va il comune nel suo complesso, allora la chiamerò performance organizzativa di ente. Posso vedere come va una direzione, che so quella servizi sociali, allora vedo come va un grande ambito organizzativo all'interno del comune. Posso vedere come va la singola persona, allora vedo come va l'individuo. Ma il concetto è che il comune nel suo complesso, le sue direzioni, i singoli dirigenti, i PO, dipendenti danno tutti un contributo. A che cosa? Un contributo al presidio della mission degli obiettivi strategici operativi e della performance dei servizi. Questo che cosa ci spiega? Ci spiega una cosa in realtà molto pratica che poi vedremo quando parleremo di obiettivi individuali, e non solo peraltro, che tutta la performance attesa va costruita in una logica orientata agli stakeholder. Cioè devo sempre dirmi, ma sì, questo obiettivo lo scrivo, chi è il destinatario del risultato? E quindi io mi aspetterei che nelle schede obiettivo ci sia sempre, prima dell'obiettivo, il destinatario del risultato. Questo è assolutamente rilevante. E qui magari parto subito con un esempio, questo faccio dialetticamente, non serve scriverlo, per farvi capire come parlare di orientamento all'utente sia limitativo nella costruzione sia dei sistemi di programmazione sia dei sistemi di valutazione, mentre sia molto più corretto parlare di orientamento agli stakeholder, quindi a tutti i portatori di interesse. E lo faccio appunto con un esempio, così ci capiamo subito. Poi ditemi voi se esagererò con gli esempi, se sono troppi, tra un po' vi chiedo come sta andando. Allora, in un comune hanno fatto una cosa molto interessante, almeno dal punto di vista concettuale. Dovevano fare i menu delle mense per i bambini e hanno chiamato il professor Berrino, che probabilmente molti conosceranno di fama internazionale, per fare una consulenza su questi menu. La logica era educare già la famiglia a livello alimentare, aiutare i bambini a mangiare in modo più sano, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa assolutamente valida concettualmente. Quindi l'obiettivo era ridefinire tutti i menu, quindi un'alimentazione diversa, educare, eccetera, eccetera. E l'utente erano sicuramente i bambini e le loro famiglie. Benissimo. Quindi se io ragiono in chiave di programmazione e poi di valutazione dei risultati in un'ottica strettamente correlata all'utente finale, questo non fa una piega. Qual è il problema però? Che non esiste solo l'utenza né diretta, i bambini, né allargata, la famiglia. Così esistono anche gli stakeholder. Non so se, appunto, se voi conoscete Berrino sapete come ragiona. Lui dice che il latte fa malissimo, la carne rossa per carità di Dio, eccetera, eccetera. Questo comune è un comune che vedeva nel suo territorio tantissimi allevatori. È chiaro che, capito l'antifona, gli allevatori hanno fatto una levata di scudi dicendo ma come? Non fai mangiare le nostre carni, il nostro latte, i nostri bambini? Non è possibile. C'è stata una pressione di questo stakeholder che di fatto non era uno stakeholder direttamente interessato a questo obiettivo. La pressione è stata tale che Berrino è tornato a casa sua e i menu sono cambiati, a prescindere da quello che potesse essere il risultato verso l'utenza diretta. Questo ci insegna una cosa, sostanzialmente, che siccome la valutazione non è una scheda, ma la valutazione è un percorso che parte da una consapevole definizione della fattibilità degli obiettivi, quando ragiono sulla fattibilità degli obiettivi probabilmente ho bisogno di riflettere su certamente l'utenza diretta, ma anche sulle reazioni degli stakeholder che stanno intorno a questi utenti. Altrimenti poi come valutatore, io allora ero nell'OIV di questo comune, diventa anche difficile, cioè di chi è la responsabilità del mancato raggiungimento di questo obiettivo? Cioè è del dirigente che alla fine ha dovuto ritarare completamente in corsa quello che stava facendo, è della politica che non ha colto bene la reazione di una parte dei suoi grandi elettori, che comunque al di là del numero di voti relativo erano comunque potenti, eccetera, e andavano considerati, anche se non destinatari del servizio. Quindi questa è una cosa comunque da considerare. Poi noi la trasporremo in come faccio a ricordarmi tutto questo quando devo scrivere un obiettivo, quindi come faccio una scheda obiettivo per carità. Però diciamo che, vedete, questa definizione ha dietro tanti ragionamenti ed è molto più pratica di quello che sembrano, perché poi le definizioni sembra sempre un fatto teorico, in realtà le definizioni se scritte pensando all'esperienza la razionalizzano, la formalizzano. Quindi questi erano i due concetti base, cioè a cosa serve il sistema di valutazione e che cos'è la performance, visto che si chiama sistema di misurazione e valutazione della performance. A questo punto entriamo già andando a vedere un po' che cosa è successo e provando a dare degli spunti per fare le cose come dovrebbero essere fatte. E parto dal che cosa è successo. Allora, diciamo che è interessante vedere la linea guida 5 2019 sulla performance individuale della funzione pubblica perché ci leggono alcune, come le chiamano loro, patologie dell'applicazione dei sistemi di valutazione. Quindi entriamo già in un aspetto molto operativo che legge le esperienze e prova a fare sintesi. Io lascerei un po' perdere la scarsa differenziazione delle valutazioni perché di questo si parla tanto, interessa fino a un certo punto, nel senso che ne parliamo poi per carità, poi diciamo anche come si può gestire, però mi interessano più a mio avviso gli altri tre elementi che hanno evidenziato che sono un po' meno sentiti. Allora, la prima cosa che dicono è che non si capisce bene, leggendo i piatti performance e a volte anche il sistema di valutazione, cos'è performance organizzativa e cos'è performance individuale. Cioè questo è una cosa abbastanza comune. Non capisci se un obiettivo è di performance organizzativa, se quella performance organizzativa è di ente oppure di direzione, non capisci se questo obiettivo è di performance organizzativa oppure del dirigente. Quindi dall'analisi fatta dalla funzione pubblica emerge una qualche confusione tra i concetti di performance organizzativa e di individuale. Non a caso noi faremo due terzi di questo incontro stamattina per cercare di capire le differenze, anche tramite esempi. Quindi questa è una prima patologia, ma sarà anche una delle prime risposte che io cercherò di darvi. La seconda patologia che emerge è il limitato ricorso a elementi rilevanti del processo di misurazione e valutazione individuale. Cioè, io la tradurrei così, molta focalizzazione sulle tecnicalità, come fare la scheda ad esempio, e non sempre altrettanta cura sugli aspetti relazionali, colloqui di presentazione degli obiettivi, colloqui intermedi, colloqui di valutazione, che chiaramente portano via tempo, ma alla fine lo fanno anche molto risparmiare il tempo. E questo è un tema assolutamente rilevante. Anche qui vi faccio un esempio, perché su questo, diciamo, sul primo punto del distingo della performance organizzativa e individuale, l'esempio lo facciamo in maniera molto più strutturata, perché ha bisogno di vedere degli indicatori, vedere delle tecnicalità, ma sul tema colloqui ovviamente non si possono vedere i colloqui, però si possono raccontare. Allora, anzi ve ne faccio due di esempi, molto diversi e secondo me molto interessanti. Allora, in un comune in cui sto lavorando, non grande peraltro, centinaio di dipendenti, a voi fa sorridere questa dimensione, loro dicono, ma noi non abbiamo tempo di fare i colloqui, perché abbiamo troppi dipendenti. Allora, tenete conto che tra dirigenti e PO, probabilmente dovranno sentire dieci persone a testa, però nella loro dimensione è considerato troppi. E allora hanno modificato il sistema di valutazione, togliendo sostanzialmente la presentazione individuale degli obiettivi, quindi la performance attesa, e di fatto mantenendo a fatica il colloquio finale. Questo secondo me è un punto molto delicato, perché poi quando arrivano le procedure di conciliazione, quasi sempre c'è scritto, non mi sono stati spiegati gli obiettivi che dovevo raggiungere. Allora, per il dirigente o per la PO che in quel comune lì trovano i loro obiettivi nel piano esecutivo, la risposta può essere, beh, il piano esecutivo è stato distribuito, pessima risposta, ma comunque meglio che niente, tu te lo potevi leggere, sarebbe meglio almeno presentarlo. Comunque, io se ho un piano esecutivo lo posso vedere. Ma un dipendente di categoria B e C, come fa a sapere rispetto a un piano esecutivo qual è la parte che lo riguarda, oppure magari avrebbe un obiettivo che non è scritto neanche nel piano esecutivo. Allora, se tu tagli a prescindere questo tipo di colloquio esatte, ti crei la possibilità di avere molti ricorsi, o meglio, procedure di conciliazione a fine anno. E soprattutto, al di là di questo, non hai un momento interessante di condivisione di quello che bisogna fare nell'anno con i tuoi dipendenti. Quindi questa è una prima riflessione su cui bisogna ragionare. Cioè, conviene risparmiare tempo all'inizio e fare male questa fase exante, o conviene impiegare un po' di tempo trovando magari, soprattutto in un comune grande, delle metodiche che evitano a chi di dovere di sentire 300 persone, perché quello sì è infattibile, però troviamo il modo, facciamo dei ragionamenti da questo punto di vista, oppure aspettiamo e speriamo che non arrivino mai procedure di conciliazione. Un altro esempio che vi faccio sulla debolezza dei colloqui di feedback, io ho avuto un ente in cui, in un servizio X, diciamo così, su 26 dipendenti ci sono stati 27 procedure di conciliazione, non è una battuta, 26 individuali e una collettiva. Che cosa era venuto fuori, sostanzialmente? Che c'era stato un abbattimento delle valutazioni rispetto all'anno prima, e questo per carità, se la performance è stata più scadente ci sta. Però, quello che era successo, molto particolare, è che in corso d'anno non è stato mai detto nulla ai dipendenti su come stavano andando. E se io l'anno prima ho preso 9 e poi prendo 6 e mezzo, mi aspetto ovviamente che qualcuno mi dica cosa sta succedendo. Ma durante i colloqui sono emerse delle cose mai smentite, tipo il valutatore che chiede al dipendente, spiegami un po' meglio di cosa ti occupi. Allora, se tu vai da questo punto di vista a fare un ragionamento che tocca sostanzialmente elementi che tu dovresti conoscere, diventa non credibile la valutazione, certamente non credibile la valutazione. E quindi questo ha portato a delle problematiche molto grosse, perché poi chiaramente i ricorsi sono stati tutti gestiti, le valutazioni, siccome non erano motivate, sono state alzate, il dirigente è stato delegittimato, il clima organizzativo era pessimo, eccetera, eccetera. Poi poco importa che i dipendenti abbiano avuto un po' più di soldi, ma chiaramente si è rotto il giocattolo. Quindi dire focalizziamoci sì sugli aspetti di scheda, sugli aspetti di metodo, eccetera, ma poi dobbiamo sempre tenere conto che la prima cosa da spiegare è che quando valuti non valuti la persona, ma la performance della persona. E anche i comportamenti, non sono i comportamenti della persona, ma sono i comportamenti del professionista che sta svolgendo il suo lavoro. Questo non è un concetto semplice, però è importante. Ma detto questo, a volte a me è capitato di avere persone che hanno chiesto delle motivazioni in maniera assolutamente tranquilla e informale, dicendo ad esempio, su questo comportamento mi avete dato 10, io mi sarei dato 9, su quest'altro mi avete dato 9, io mi sarei dato 10. semplicemente per capire perché e ci sta. Allora, questo tipo di attenzione, un'attenzione è importante e oggi con il lavoro agile è ancora più importante, perché se io non sono abituato a gestire le persone, figuriamoci il lavoro agile. E quindi il rischio nella frattura che spesso c'è tra il manager dei dipendenti, cioè manager che non conosce i dipendenti, che non parla con i dipendenti, poi ripeto, se uno ne ha 300, 400, 500, il problema non è semplicissimo. Però ci sono momenti di confronto, si possono organizzare, ma se non lo facevo quando eravamo tutti lì, adesso il rischio di avere gente in smart working, un lavoro agile meglio, assolutamente abbandonata a se stessa, che non vuol dire non controllata, vuol dire neanche indirizzata. E quindi ti perdi quelli che invece vorrebbero lavorare bene. Quindi questo tema, secondo me, la funzione pubblica l'ha centrato e su questo cercherò di darvi delle risposte. L'altro tema interessante che dicono loro è il limitato impiego di che cosa? Dei dizionari dei comportamenti, al di là del nome un po' pomposo, io direi il limitato impiego di ragionamenti un po' strutturati sui comportamenti che magari potrebbero differenziarli a seconda di quello che fa un gruppo di persone di mestiere rispetto a un altro gruppo di persone, oppure selezionarli, eccetera. Ecco, su qui faremo sicuramente un focus operativo in cui andremo a vedere come si possono trattare i comportamenti evitando una modalità, diciamo, standardizzata e non contingente dell'uso dei comportamenti. Che tradotto vuol dire, ad esempio, io ho una scheda uguale per tutti, c'è un, che ne so, faccio un esempio estremo, ma per farmi capire, c'è un comportamento che si chiama capacità di relazione con i colleghi, poi ti accorgi che una persona è una persona che lavora insieme a un'altra ed è finita lì. Allora, non è che questo comportamento impatti tanto, se invece sei un gruppo di lavoro di 40 persone la cosa è un po' diversa. Allora, i comportamenti attesi dipendono dal tipo di mestiere che faccio, se lavoro allo sportello è una cosa, se faccio progetti è una cosa diversa, ma anche dal tipo di settore, ufficio, unità operativa in cui sono. Quindi pensare di lavorare in modo un po' più addocratico sui comportamenti è un senso. E l'altra cosa molto interessante per cui faremo un piccolo approfondimento è quello che la funzione pubblica chiama i meccanismi di calibrazione ex-ante e ex-post. Che cosa significa calibrazione ex-ante e che cosa significa calibrazione ex-post? Beh, calibrazione ex-ante significa cercare di dare degli obiettivi di complessità omogenea nel momento in cui distribuisco obiettivi al mio personale. Questo è una cosa importante. Adesso faccio un esempio molto semplice perché lo sto gestendo questi giorni. Faremo gli iscritti online all'università, avremo due gruppi. È chiaro che io quando faccio le domande cerco di fare domande che siano molto equilibrate tra un gruppo e l'altro, benché diverse, non una domanda facile a uno, una difficile a l'altro. Questo è un meccanismo di calibrazione che genera equità ex-ante e su cui dobbiamo fare qualche riflessione. Poi non è una regola ferrea, però è una cosa che ha un suo interesse. I meccanismi di calibrazione ex-post sono altrettanto importanti. Che cosa significa? Quando io faccio le verifiche dei voti dati, ad esempio delle diverse direzioni, potrebbe capitare che una direzione, adesso esagero, a tutti i 10, un'altra a 8,5 di media, un'altra a 6,5 di media, eccetera. Allora, prima di buttare fuori queste valutazioni, mi devo porre il problema se i valutatori hanno un medesimo metro di giudizio. Questo è corretto per i valutati, perché se c'è un valutatore che sbraga e per un'apparente pace sociale da 10 a tutti, non è giusto. D'altro canto, non è neanche giusto che un valutatore eccessivamente rigido penalizzi dei dipendenti, tenuto conto che le valutazioni impattano sulle progressioni. Che cosa bisogna fare? Bisogna certamente equilibrare il metro di giudizio dei valutatori, ma non è solo una questione che serva, diciamo, a aiutare i valutati, ma aiuta anche i valutatori, perché io non posso abbandonare a se stesso un valutatore, magari un valutatore serio, che dice, ma mediamente, questi sono i miei dipendenti, alla fine il voto medio diventa 8,70 per dire, quindi non un brutto voto, come voto medio, ma se c'è il collega che sbraga e le dice a tutti, il dirigente serio passa per il dirigente che massacra i suoi dipendenti, questo non va bene. Allora, è interessante pensare a un meccanismo su questa patologia di calibrazione, ad esempio, già anni fa, quando ero nel precedente OIV di Regione Lombardia, avevamo fatto una cosa secondo me intelligente, che era, tutte le direzioni davano le statistiche, ovviamente, senza vedere i nomi, delle valutazioni dei dipendenti, l'OIV le guardava, se vedeva che c'erano differenze eccessive, faceva una conferenza dei direttori generali della Regione, ragionava insieme a loro e chiedeva di ricalibrare il metro giudizio, ovviamente il dirigente poteva farlo oppure no, quindi noi non entravamo gerarchicamente, anche perché non avevamo nessun rapporto gerarchico, era semplicemente un indirizzo, ma molto spesso, quasi sempre, i dirigenti questo lavoro di ricalibrazione lo facevano e hanno molto gradito la cosa perché si sono sentiti assistiti in questo percorso, tenete conto che erano il primissimo anno di applicazione di forma brunetta, quindi erano molto preoccupati nell'applicazione di questa norma, con l'assistenza di un soggetto terzo che guardava e cercava di fare dei ragionamenti, questo secondo me è stato una cosa molto gradita e che li ha tanto aiutati. Poi certo c'è il tema della scarsa differenziazione delle valutazioni, se le valutazioni non sono almeno un po' differenziate il problema rimane, qui non è il Comune di Genova il caso, però dobbiamo sempre tener conto di tanti comuni piccoli dove differenziare è ancora più difficile e questo è un tema, cioè il tema della differenziazione delle valutazioni è un tema, però ecco anche qui quando io considero il comportamento organizzativo rispetto alla capacità di valutazione non utilizzo soltanto i classici indicatori media, varianza, scarto quadratico medio, moda, valore minimo, valore massimo che sono sicuramente utili per capire se uno differenzia, ma scrivo proprio il comportamento cioè capacità di valutazione parentesi grado di differenziazione e correttezza dei percorsi valutativi perché tu puoi anche differenziare aritmeticamente ma avrai fatto un pessimo percorso valutativo ad esempio non hai motivato le valutazioni vieni sommerso da ricorsi e perdi pure o anche e anche questo è un esempio di vita vissuta divertente perché a volte pensano che i nuclei di valutazione o gli OIV non guardino e non vedono niente però ogni tanto qualcosa guardano c'è stato era un ente piccolo una posizione organizzativa che ha valutato i suoi dipendenti e c'era una buona differenziazione perché la varianza era notevole siccome conoscevamo il personaggio siamo andati a guardare le schede una a una e ci siamo accorti che aveva dato 9 AD 8 AC e 7 AB ecco non serve commentare è chiaro che una valutazione così o mi motivi assolutamente che quei voti sono casualmente 9 AD 8 AC e 7 AB e se me lo motivi mi convinci va bene oppure che valutazione è quindi tu puoi anche avere differenziato ma hai valutato assolutamente male quindi stiamo sempre attenti che i numeri vanno interpretati ecco queste secondo me sono note molto interessanti da funzione pubblica perché ci dice già delle cose ci dà qualche spunto per migliorare ma soprattutto legge l'esperienza quindi non fa un discorso concettuale astratto fa un discorso esperienziale io proprio sulla base di queste che sono le quattro importanti patologie in tutto questo nostro incontro cercherò di darvi delle soluzioni per superare le patologie perché se no è però interessante partire dal problema per vedere se ci sono strumenti per superarlo ecco magari mi fermo tre secondi per avere un tanto per tirare bevo un goccio d'acqua vi faccio tirare il fiato anche a voi ecco ditemi se magari se è chiaro se vi sembra tutto se va bene se se si capisce se sono troppo prolisso troppo sintetico se c'è qualche feedback minimo giusto per poi se non ok va bene è chiaro perfetto niente se avete già domande non c'è problema ripeto io vado avanti senza timore però se avete domande ok e quindi adesso iniziamo a dare un po' di soluzioni abbiamo visto le patologie e iniziamo a dare delle soluzioni allora io ho questa idea del sistema di valutazione allora parte da un concetto che magari è un po' brutale oggi non siamo più abituati a leggere ce lo spiegano i social no? facebook è una cosa da dinosauri della mia età perché comunque c'è troppo scritto instagram è meno scritto lo si segue molto di più già instagram è troppo scritto c'è tiktok quindi si va verso una deriva anche in parte purtroppo però è una deriva che esiste pensare di fare sistemi da 50 pagine è una cosa elefantiaca soprattutto se un comune è molto grande molto complicato cioè io quando metto in campo strumenti in enti come il vostro devo ricordarmi che il vostro ente è complicato perché avete un territorio complicato siete un grande ente quindi non fate quattro cosine siete il comunino da 15 dipendenti se io vi ingolfo di metodologie complicate alla fine il lavoro diventa una gratificazione autoreferenziale che ha scritto la metodologia che magari dottrinalmente è ineccepibile ma poi è di difficile applicazione e a volte di faticosa o nessuna lettura faccio un esempio che non c'entra con il sistema di valutazione ma in parte c'entra parecchio in un comune di 15.000 abitanti avevano un peg di 750 pagine lo faccio sempre perché è inquietante verrebbe da fare qualche indicatore numero di pagine di peg per abitante per capire chiaramente nessuno se lo filava con un nuovo sindaco molto intelligente anche capace di ascoltare e di fare qualche ragionamento con il ragioniere che comunque era molto bravo eccetera abbiamo detto ma forse il primo obiettivo non è fare il più bel peg del mondo il primo obiettivo è che chi lo approva l'abbia letto e le più che ci lavorano sappiano cosa c'è scritto dentro è diventato un peg di 40 pagine presentato e condiviso in una riunione plenaria tra gli apicali e la giunta c'era anche il nucleo tutti insieme e tutti l'hanno letto e hanno detto è la prima volta in vita nostra che il nostro peg lo leggiamo e lo conosciamo tutti sicuramente funzionerà meglio ecco lo stesso i sistemi di valutazione cioè snelli perché allora chi li scrive deve sapere tutto deve aver letto tutte le guida della funzione pubblica deve conoscere la brunetta la madia deve studiare la dottrina della performance ma questo è un problema suo ma chi si occupa di lavori pubblici sociali urbanistica cioè non ha quella formazione lì usa gli strumenti deve avere un po' di formazione naturalmente sapere cosa ha in mano però non si può massacrarlo di paginate vi faccio anche qui un esempio in una provincia che conosco perché sono nel nucleo c'è un sistema di valutazione in cui ancora oggi c'è un simpatico distinguo tra obiettivi altamente strategici e obiettivi strategici allora io la domanda che ho fatto loro è questa dico ma al massimo potrei farla io una cosa così concettosa facendo il professorone e sbagliando ok ma uno che lavora tutti i giorni in un ente ed è in un ente che quell'anno lì ha fatto il bilancio annuale perché non sapevano neanche se l'anno dopo ci sarebbero stati ancora che senso ha parlare di obiettivi strategici già faccio fatica perché non sai ancora se ci sei l'anno dopo ma che senso ha distinguere tra obiettivi altamente strategici e obiettivi strategici allora attenzione agli eccessi di tassonomie un conto è scribacchiare qualche libretto un conto è gestire la programmazione il controllo e la valutazione in un ente allora andrei a fare strumenti snelli che usino poche parole molto chiare e molto condivise tutti voi avete sentito parlare sempre obiettivi di gestione obiettivi esecutivi obiettivi strategici obiettivi di mantenimento obiettivi di sviluppo e poi collocare le cose vere dentro a queste tassonomie non è facile allora o noi usiamo un glossario molto stretto molto chiaro e questo glossario può essere diffuso e capito oppure si fa il gioco del telefono senza fili che facevamo da bambini che uno dice ciao all'inizio e l'ultimo sente Italia perché la parola si distorce completamente e non va bene quindi sistemi snelli flessibili e quindi che non siano ingessati qui il legislatore ci aiuta dice ogni anno riconsiderate il sistema di valutazione e nel caso lo cambiate col parere del nucleo questa è una cosa molto intelligente e magari sistemi che si applicano progressivamente non faccio tutto subito quindi magari faccio un sistema abbastanza completo ma poi dico nel corso di questo triennio di questo mandato lo applico step by step questo per fortuna il legislatore e anche il non legislatore l'ha capito l'ANAC tutte le volte te lo dice adesso la funzione pubblica col pola dice applicazione graduale quindi una cosa graduale fattibile ma tutto questo lo sostieni se c'è una centralità dei percorsi organizzativi che lo governano e anche questo lo traduco proprio in provincia di Milano quando è venuta fuori la brunetta era il periodo in cui si iniziava a tagliare a tutte le parti gli hanno tagliato i costi per la formazione un ente che era famoso per la quantità e la qualità di formazione che faceva si è trovato di colpo a fare per le sue 190 PO un'iniziativa di 4 ore che spiegava tutta la brunetta e capite bene che i percorsi organizzativi e una parte di questi sono la diciamo la formazione una parte del percorso organizzativo fatta dalla formazione si sono indeboliti tremendamente allora io dico è meglio spiegarlo diffonderlo il sistema e per spiegarlo diffonderlo deve essere una cosa che non ti viene male a leggerlo e che si possa comprendere che valorizzi anche la storia dell'ente quindi centralità dei percorsi organizzativi strumenti semplici in questo e poi non la cito più la regione proprio nel 2009 mi ha insegnato una cosa importante loro avevano una scheda obiettivo di una pagina dirigente finita lì il sistema era banalissimo però ogni due settimane ogni dirigente aveva un colloquio con un collega dirigente della programmazione uno dell'organizzazione in cui si vedeva sei arrivato fin qui rispetto al tuo obiettivo se c'era problemi il dirigente andava dal segretario generale che per loro è il direttore generale quindi davano strumento banalissimo una foglia 4 con i loro 4 obiettivi con qualche indicatore ma un controllo organizzativo due volte al mese con un riporto immediato se c'erano problemi al vertice dell'amministrazione per cercare di capire se c'era una soluzione a quei problemi quindi grande attenzione ai percorsi e grande snellezza degli strumenti questo è un primo consiglio che vi darei per superare queste patologie un'altra cosa che è interessante è quella di dire se devo rifare i sistemi sarebbe meglio non stratificarli anche qui faccio subito un esempio io sono un comune che ha un sistema dirigenti approvato dopo la riforma Brunetta non toccato dopo la riforma Madia e adesso verrà un po' ritoccato un sistema dipendente che è ancora fermo alla prima della Brunetta sulla cui legittimità si potrebbe parlare allora è chiaro che questi sistemi non si parlano sono disallineati creano sempre problemi perché non li mettono a posto non lo so però il fatto c'è allora sarebbe molto utile riuscire a costruire uno sistema di valutazione che tenga insieme direttore segretario dirigenti più dipendenti al di là dei loro specifici contratti e dia diciamo degli elementi portanti che sono comuni ad esempio suggerimento operativo io consiglio sempre di fare prima di fare il sistema direttore sistema segretario sistema dirigenti sistema dipendenti un cappello due tre pagine con i principi generali del sistema di valutazione questi principi generali vanno in confronto sindacale e pongono però le basi diciamo di alcune cose che non possono non essere considerate al di là del livello dei dipendenti ad esempio si potrebbe scrivere che è necessario far conoscere la performance attesa al valutato prima è necessario che in caso di problematiche ci sia la possibilità di avere un colloquio col valutatore in corso d'anno oppure che ci vuole un colloquio che spieghi la valutazione oppure magari un ente più grande potrebbe essere che uno trasmette la scheda e poi su richiesta del dipendente ci può essere il colloquio perché se io appunto ho 500 dipendenti a parte che posso spalmare i colloqui con l'aiuto delle piova non è che necessariamente devo fare 500 colloqui se per alcuni dipendenti i problemi non ce ne sono è un'interlocuzione costante però ecco dei principi generali io li considererei quindi un sistema integrato vuol dire a mio avviso da un lato non disallineare troppo i momenti di approvazione dei sistemi poi so anch'io che se esce il nuovo contratto di dirigenti devo mettere in mano il sistema però diciamo cercare di tenerli insieme e poi cercare di tenerli insieme anche concettualmente ad esempio con dei principi generali questo può aiutare sicuramente molto peraltro sembra banale però a livello comunicativo funziona molto bene un volumetto sui principi generali uno sulla valutazione del direttore una valutazione del segretario nel vostro caso coincidono ma la valutazione potrebbe essere su elementi diversi uno sulla valutazione dei dirigenti barra PO che potrebbero avere anche elementi di comunanza e uno sui dipendenti sono volumetti distinti che rendono il sistema molto più snello e leggibile anche questo fa parte di tutte le piccole cose che possono aiutare a livello pratico la leggerezza e la voglia di guardare questi documenti e non approvarli e dimenticarli nel cassetto ecco questa slide è molto importante perché su questa poi si poggiano molte delle cose che diremo dopo è meglio iniziare a parlare correttamente da questo punto di vista noi siamo abituati anche io l'ho fatto adesso volutamente parliamo sempre di obiettivi ma allora dopo la riforma Brunetta la riforma Madia si è cambiato proprio prospettiva si è introdotto il performance management e quello che io mi aspetto da una persona non sono gli obiettivi è un po' poco non valuto solo quello sarebbe meglio usare un concetto un po' più ampio che qui ho provato a declinare che è quello di performance attesa allora rispetto alla persona io so benissimo che la persona governa direttamente molto di più la sua performance individuale i suoi comportamenti i suoi obiettivi che siano individuali o di gruppo so benissimo che la performance organizzativa di ente per alcuni dipendenti soprattutto i più operativi è una cosa molto lontana un po' meno quella della sua area il suo settore la sua direzione come volete chiamarla però so anche benissimo che moltissime di queste cose vanno a impattare su tutti i dipendenti allora una cosa che potremmo iniziare a fare essendo a 11 anni la riforma Brunetta qualche anno la riforma Madia e anche essendo uscite ormai da tre anni le varie linee guide della funzione pubblica è iniziare ad adeguare il linguaggio cioè non abbiamo più il decreto 7795 sulla commentabilità col PEG con gli obiettivi di gestione e con la valutazione dei risultati pensando solo a obiettivi e comportamenti abbiamo un sistema contabile armonizzato che ha degli obiettivi operativi esecutivi sicuramente che sono una parte delle cose che andrò a vedere per la valutazione ma ho un sistema di performance che parla di performance attesa quindi non è tanto siccome è corretto dire che io ho gli obiettivi cioè eri molto riduttivo io che sia una categoria B che sia un dirigente comunque ho per vari motivi anche contrattuali chiaramente diciamo come interesse tutte queste cose che stiamo vedendo qua e sappiamo che c'è la performance organizzativa che si può misurare valutare a livello di ente a livello interno all'ente quindi aree settori quant'altro e ha una performance duale con obiettivi duali o di gruppo e comportamenti organizzativi dopodiché è chiaro che il segretario direttore dirigente l'IPO su questi elementi vanno su tutti e quattro i dipendenti nella loro scheda specifica hanno invece obiettivi in giurale o di gruppo e comportamenti si ferma lì normativamente dopodiché però una parte del fondo la prendono rispetto alla performance organizzativa dell'ente quindi alla fine questi quattro elementi impattano su tutti ma quello che a me interessava è la parte sinistra diciamo di questa slide adesso noi nella seconda parte nel due terzi diciamo del nostro incontro di questa mattina lavoreremo molto sul tema performance organizzativa di ente di settore vedendo come si può fare e lavoreremo molto anche su obiettivi individuali di gruppo e comportamenti organizzativi vedendo come si può fare cioè cercheremo di esemplificare tutti gli elementi della performance attesa ovviamente non faremo tanto un ragionamento in chiave di programmazione lo faremo già dal lato della valutazione ma chiaramente vedremo comunque esempi di obiettivi perché poi si fa fatica a parlare di valutazione senza vedere obiettivi indicatori e quant'altro però ecco questo è una slide molto importante perché ci dice l'oggetto del sistema di misurazione e valutazione sicuramente è la performance attesa che è composta da due macro classi la performance organizzativa e quella individuale a loro volta composte da performance organizzativa di enti di area settore o come volete chiamarlo voi e obiettivi individuali e comportamenti organizzativi questo ci aiuta tanto a usare un linguaggio corretto ma soprattutto a porre le basi per tutta la parte concreta che faremo tra un pochino gli attori del sistema di valutazione sono molti e anche questo è un tema rilevante perché c'è la giunta che lo approva il segretario direttore che oltre ad essere un valutato sicuramente è un valutatore spesso sui comportamenti organizzativi degli apicali è lui che impatta i dirigenti che sono valutati i valutatori lo stesso modo le posizioni organizzative sono valutate ma molto spesso entrano nei percorsi valutativi dei dipendenti i dipendenti che si non valutano nessuno però sono soggetti valutati e comunque sono soggetti attivi della valutazione gli altri stakeholder perché la riforma Madia in modo evidente dice devi usare la customer satisfaction e quindi sei anche valutato dagli utenti servizi e questo e non solo perché poi non ci sono io ho fatto un percorso ad esempio di customer al lato città metropolitana di Milano che è l'ambito territoriale ottimale dell'acqua loro hanno chiesto anche la customer al gestore perché comunque è un suo stakeholder particolare quindi non sempre vai sugli utenti diretti però sui tuoi interlocutori poi abbiamo la struttura tecnica di supporto dell'OIV o del nucleo di valutazione che è sicuramente un altro interlocutore molto importante che lavora su questi temi dal lato esterno certamente la funzione pubblica ci dà una serie di linee guida la regione regionale dello Stato fa i suoi controlli la Corte può anche combinare delle sentenze anche pesanti in caso ad esempio di errori di valutazione vedremo poi una interessante sentenza dopo che analizzeremo insieme e comunque l'ANAC perché sappiamo bene che l'ANAC dice su anticorruzione e trasparenza bisogna mettere obiettivi dentro il piano performance e quindi vanno valutati e se sono scarsamente raggiunti impattano sulla retribuzione di risultato oltre che per gli aspetti disciplinari e di danno d'immagine dell'ente il nucleo di valutazione e l'OIV hanno una funzione di supervisione di tutto il percorso valutativo e di valutazione degli apicali poi qui cosa si intenda per apicali dipende un po' dal singolo ente c'è chi chi li ferma diciamo al primo livello anche se ho più livelli dirigenziali io mi fermo al primo livello come nucleo altri fanno valutare dal direttore generale il primo livello e il nucleo va solo dal secondo in giù è un po' curioso ma alcuni enti fanno così quindi diciamo dipende però certamente il nucleo valuta anche diciamo qualche tipo di dirigenti a seconda del tipo di enti però vedete il fatto che sia tutta sta gente che gira intorno alla valutazione fa capire che il sistema debba essere snello altrimenti diventa molto difficile a gestire gli strumenti che noi usiamo sicuramente sono il PEG Piano Performance non c'è dubbio un eventuale report di monitoraggio infranuale del PEG Piano Performance e la relazione sulla performance questo vale sicuramente come serie di strumenti naturalmente tutto questo va in scheda di valutazione è altrettanto chiaro che i comportamenti organizzativi vanno nella scheda di valutazione non vanno messi nel PEG Piano Performance questo sembra banalissimo a me è capitato una volta che un segretario ha voluto mettere i comportamenti organizzativi degli apicali in Piano Performance quindi ha dovuto rendicontarli in relazione performance io diciamo sono contento per lui che aveva degli apicali tranquilli io mi sarei fatto qualche bel problema di privacy da questo punto di vista nel senso che i comportamenti organizzativi sono molto molto delicati e personali metterli su un documento che viene pubblicato su amministrazione trasparente secondo me se scrivano al garante il segretario non la passava benissimo però è stato l'unico caso in cui ho visto questa cosa diciamo che Piano e relazione sulla performance sono pubblicati report di monitoraggio difficilmente pubblicato la legge non lo dice chiaramente la scheda di valutazione è una cosa individuale ed è benissimo non pubblicarla questi sono sicuramente gli strumenti ma come dicevo prima uno strumento molto molto rilevante è anche il colloquio che è il problema più grosso perché alla fine è la cosa che porta via tempo di solito si fanno due cose si mandano le schede nella normalità dei casi si mandano le schede di valutazione compilate e poi se qualcuno ha qualcosa da dire lo dice allora io qui direi un po' più di cose un po' più approfondite di quello che si vede nelle prassi e su questo riprendo due concetti uno generale che io ho sempre utilizzato e poi la stessa cosa ribadita dalla funzione pubblica perché alla fine l'ha formalizzata anche la funzione pubblica allora la valutazione non comincia alla fine comincia con la programmazione comincia con la definizione della performance attesa a mio avviso qui un qualche modo per spiegare gli obiettivi e la performance attesa ci dovrebbe essere poi è chiaro che se io ho 4 dipendenti è facile è chiaro che se io ho 500 dipendenti è meno facile probabilmente se ho 500 dipendenti come direttore apicale avrò sotto altri dirigenti che a loro volta avranno sotto altre PO probabilmente riesco a costruire un sistema a cascata che renda sostenibile la cosa o comunque mi invento un qualcosa però il tema di dichiarare che cosa ci si aspetta dalle persone è un tema rilevante del resto gestire il personale costa costa tempo e costa anche soldi ovviamente perché è tempo non lavorato per i servizi finali però non deve diventare una scocciatura non è plausibile pensare che un dirigente trovi fastidioso gestire il personale e spiegare cosa devono fare le persone e quali sono i loro risultati credo che sia una cosa assolutamente rilevante ma questo lo dice anche la funzione pubblica sarebbe molto utile trovare delle modalità che da un certo punto di vista chiariscano bene la performance attesa a tutti come poi vediamo con degli esempi certamente ci deve essere un monitoraggio e un qualche riorientamento ove ci sono degli elementi di criticità quindi non si può valutare male uno a cui non ho detto mai che andava male durante l'anno perché fa conciliazione e vince quindi è perfettamente inutile se uno non se ne vuole occupare per niente di queste cose da 10 a tutti e poi vedremo come va però il monitoraggio è un fatto importante e anche la valutazione della performance conseguita ha bisogno di una spiegazione perché devo spiegare il perché dei comportamenti e devo spiegare il perché del raggiungimento degli obiettivi su questo che è un concetto che io ho sempre portato avanti la funzione pubblica ci ha dato dentro parecchio e ha detto secondo me molto di più cioè la funzione pubblica ha detto che bisogna assicurare la condivisione delle aspettative e dei traguardi da raggiungere e dei comportamenti attesi quindi tradotto vuol dire che devi spiegare e far capire bene quali sono gli obiettivi e i comportamenti che io mi aspetto da un dipendente che so nel 2020 mi aspetto da un dipendente che non so raggiunga questi obiettivi e poi sia molto bravo dal punto di vista dell'autonomia professionale della responsabilizzazione perché lavora in smart working e quindi c'è più bisogno che sappia comunque tenere i contatti con i colleghi anche con modalità nuove e quant'altro quindi gli spiego ecco la funzione pubblica dice anche che la condivisione non è necessariamente accordo ma reciproca conoscenza questo lo dice esattamente la linea guida sulla performance quindi poi ho già visto proprio due settimane fa ho visto una conciliazione scritta da un avvocato perché era un po' difficile il rapporto tra valutatore e valutato e l'avvocato chiaramente ha citato questo documento perché se l'avvocato è preparato questi documenti li conosce il problema è che il valutatore questi documenti non aveva mai letti e quindi si è trovato spiazzato perché probabilmente sarebbe bastato un colloquio di presentazione degli obiettivi e questa cosa sarebbe stata più facile l'altra cosa che ti dice la funzione pubblica in sede nel momento di raggio è quella di analizzare le motivazioni di eventuali scostamenti e la performance attesa e l'ultima in sede di valutazioni per forma conseguita ti dice di chiarire la performance del valutato e anche di dialogare per individuare modalità e azioni di sviluppo organizzativo e professionale anche questo non è una cosa banale da molti punti di vista è una cosa assolutamente interessante su cui riflettere e quindi pensare di chiudere la valutazione usando la valutazione per ragionare sugli elementi del piano di formazione per i miei dipendenti è chiaro che qui ci vuole un dirigente che voglia fare il dirigente e ci vuole anche un'amministrazione che i dirigenti adesso la dico male non chieda di tappare le buche ma chieda di fare il dirigente e poi anche che le buche siano tappate questo non è facile non è facile perché i dirigenti e anche gli assessori hanno un'utenza di riferimento che guarda il particolare diciamo che la dottrina e la norma vanno in una direzione molto strategica di alzare la testa di guardare gli stakeholder eccetera ma il sentire comune è la mia rotonda sotto casa la mia buca nella mia strada il cestino di rifiuti sotto casa è pieno e voi siete di Genova io sono di Milano però vi assicuro io sono andato in qualche consiglio di circoscrizione a Milano che non sono esattamente dei sottoscala sono diciamo ambienti da 350.000 abitanti credo che la regione basilicata non li faccia tutte insieme ok ma l'interlocuzione dei cittadini è la stessa di un comune di 100 abitanti perché dicono cioè Milano che ha alcuni fenomeni così di un qualche rilievo che ne so l'andrangheta il PM10 a livelli folli tutta questa serie di banalità e però se sentite cosa dicono i cittadini i cittadini fanno delle interlocuzioni sconcertanti sul lato dei risultati attesi e potrei anche dirvele fanno un po' sorridere così ci rilassiamo anche un attimo ricordo un cittadino che ha detto che i rumeni rubano i pomodori dagli orti comunali che mi sembra un problema eclatante per una città come Milano cioè il problema io ci farei la campagna di sindaco sui pomodori rubati dai rumeni però vi assicuro che in tre ore e c'era il vice sindaco che era decorato che comunque è uno famoso c'era presidente della commissione sicurezza del consiglio comunale che allora era Salvini che è anche lui piuttosto famoso c'era il vice comandante dei vigili questo era il livello di interlocuzione dei cittadini cioè non c'era alcuna visione le problematiche erano problematiche da quartierino proprio quindi non è facile io mi rendo conto che i valutatori sono molto spesso spinti anche verso una quotidianità sia di alto profilo grandi progetti ma anche di basso profilo perché le cose di basso profilo il cittadino le vede le capisce a differenza di quelle di altro profilo molte volte e tu perdi i voti proprio lì però ecco la gestione personale è una parte delle cose e non si fa da soli non si inventa e non si fa in maniera banale queste secondo me sono un po' le cose importanti che potevamo dire e sulla calibrazione vado più veloce perché ne avevo già un po' parlato vedete la funzione pubblica dice calibra il contenuto e il peso degli obiettivi nella fase ex ante concorda il metodo di valutazione e in fase ex post confronto i giudizi quello che vi dicevo prima quindi questo fa capire che è un lavoro complicato quindi io questo lavoro complicato non lo gestisco con un piano performance complicatissimo che mi butta addosso 1500 obiettivi con 18 schede comportamenti diversi cioè non ce la faccio devo avere un piano performance che dica poche cose molto importanti devo avere schede comportamento ben strutturate e conosciute un po' da tutti e poi devo avere meccanismi e percorsi organizzativi molto oliati che portino avanti bene questo tipo di ragionamento poi adesso ovviamente io non conosco da dentro la vostra realtà anche se ho fatto parecchie lezioni con il comune di Genova però non crediate che l'opacità dei sistemi di valutazione la confusione della valutazione la non conoscenza degli obiettivi la non motivazione dei risultati sia il problema del comune grande ci sono comuni piccoli che fanno lo stesso tipo di caos organizzativo quindi il problema è cercare chiaramente di capire dove si è capitati cercare di mettere in piedi un sistema che abbia un senso e cercare di governare il sistema da questo punto di vista l'esempio di governare il sistema è il confronto sui giudizi ad esempio cioè in regione erano terrorizzati cosa sarebbe venuto fuori sul confronto dei giudizi con la prima applicazione della brunetta con una prearmonizzazione dei giudizi dei dirigenti equilibrando il metro non è venuto fuori niente si è andati avanti molto molto tranquilli quindi a volte meccanismi organizzativi semplici aiutano molto più di tecnicalità vi faccio anche qui un altro esempio interessante sempre valutativo sempre in regione avevano fatto una cosa siccome avevano tanti soldi in quel periodo lì avevano fatto una sorta di super premio oltre ai premi normali il segretario generale aveva detto per ogni direzione potete presentarmi un progetto che non è stato definito exante non importa però se i miei motivi già lì è tiratissima ma fa niente però se mi dimostrate che è un risultato eclatante io ci metto altri soldi e premio chi l'ha portato avanti allora cosa hanno fatto i direttori delle 15 direzioni regionali hanno fatto il compitino e un dirigente a direzione ha rendicontato un progetto eclatante io e i colleghi dell'OIV ci siamo molto preoccupati perché abbiamo detto cavoli abbiamo appena finito di valutare 200 dirigenti chissà questi progetti così eclatanti saremo mai in grado di capire cosa c'è scritto dentro perché loro sono specialisti della materia noi no e magari mi parli che ne so di reti io faccio fatica chissà che robe incredibili chissà quanto tempo ci mettiamo e quindi l'abbiamo erroneamente spostata sul lato tecnico dire da un lato la preoccupazione è di dare dei soldi su un obiettivo non definito exante e vabbè e quella c'era e rimaneva dall'altro però anche la preoccupazione di avere davanti a noi 15 relazioni lunghe 30 pagine 40 pagine che spiegavano cose difficilissime e che ci preoccupava il segretario generale di allora ha fatto una cosa straordinaria che è stata quella di non focalizzare sullo strumento relazione o sul contenuto dello strumento ma di dire una cosa semplice dice benissimo vi informo peraltro che i 15 progetti rendicontati come eclatanti quindi potenzialmente soggetto a premio verranno presentati davanti a tutti i dirigenti regionali i loro vicari i direttori generali degli enti strumentali i direttori generali delle società nel comitato di direzione allargato dei 15 progetti ne è rimasto uno ecco allora un meccanismo di controllo sociale ha sgonfiato progetti farlocchi ovviamente perché il ragionamento che hanno fatto era ovvio hanno detto cavoli magari il nucleo è anche fesso non se ne accorge ma i miei colleghi se ne accorgono che sono farlocchi quindi facciamo un passo indietro e alla fine il progetto era uno allora questo cosa significa che a volte non sono le tecnicalità quelle da mettere in campo ma sono meccanismi di trasparenza al di là di amministrazione trasparente di controllo sociale di circolazione delle informazioni di confronto tutte cose soft che però tengono molto meglio in piedi secondo me le organizzazioni ecco questa era diciamo la prima parte quella meno operativa ho cercato comunque come avete visto di farvi degli esempi però era sicuramente la parte meno operativa della lezione di oggi intanto recupero recupero le slide della seconda parte ecco voglio vedere anche un attimo che ora abbiamo fatto non ho l'orologio con me per vedere qualcuno mi dice l'ora perché non ho l'orologio con me e non riesco a vederlo dal computer ok volete facciamo una pausetta cosa dite visto che abbiamo finito tutto questo primo blocco facciamo 5 minuti potremmo fare così se volete invece di fare 10 minuti un quarto facciamo due piccole pause dopo questa adesso una poi un'altra dopo la performance organizzativa così abbiamo un minimo distacco se siete d'accordo magari se volete se avete delle domande ci pensate tra 5 minuti quando ci rivediamo mi fate delle domande se volete ok ok allora direi 5 minuti stacco il video l'audio un attimo e ci siamo a dopo a dopo